Rigtochart è un sito per la creazione di infografiche e brevi presentazioni, offre moltissime opportunità e moltissimo materiale da cui partire, per cui è ottimo anche per i principianti, anche se le opzioni da esplorare sono veramente molte. Oltre all'account base, il sito offre degli account premium a pagamento, che offrono maggiori possibilità, come per esempio l'accesso a più di 600 template predefiniti, oppure la possibilità di scaricare il proprio progetto in formato PDF. Per creare la nostra infografica, ma anche per avere accesso ai lavori degli altri utenti, bisogna registrarsi al sito, basta cliccare su Segnap, in questo caso andrà direttamente su Login, Ci si può autenticare direttamente tramite il proprio account Google o Facebook, oppure registrarsi con un'e-mail e una password. Appena autenticati si è accesso alla propria dashboard. A sinistra possiamo scegliere che cosa creare, un'infografica, una presentazione, oppure un printable. Un printable potrebbe essere un volantino o un invito. Possiamo creare una nuova infografica partendo da un foglio bianco, oppure partire da un template predefinito, cliccando su Use Template, su quello che ci sembra più interessante. E una volta autenticati possiamo anche vedere l'anteprima dei template, cliccando su Preview. E' più semplice e rapido a partire da un template predefinito, anche perché sono completamente modificabili. Possiamo spostare elementi, possiamo scambiare di posto le pagine, abbiamo tutte le opzioni riguardanti il testo qui sopra, il colore, il formato, la dimensione. Invece qui a sinistra abbiamo tutti gli strumenti di lavoro. Possiamo aggiungere forme e linee, icone, soltanto trascinandole. Così come tutti gli altri elementi. Foto, ricercabili direttamente dal database, oppure caricabili dal nostro computer. Possiamo intervenire sullo sfondo. Possiamo aggiungere parti di testo, targhette, di ogni genere. Infine possiamo aggiungere grafici statistici, mappe o video. Qui possiamo aggiungere un titolo alla nostra infografica. Possiamo averne un'anteprima, scaricarla come file jpg oppure png e condividerla sui principali social network. Per avere rapidamente accesso a tutte le altre infografici e presentazioni da parte degli altri utenti, basta andare su menu e cliccare su Inspire.me. Dove avremo accesso a tutte le creazioni, prese pubbliche dagli utenti e disponibili per il nostro account gratuito. Grazie a tutti.